Hai mai sofferto o soffri di gelosia? E attenzione, non è un caso che si dica soffrire di gelosia, perché la gelosia è uno stato d'animo che procura tanta tanta sofferenza in noi e nell'altro. In questo video voglio proprio parlarti della gelosia, vedere insieme a te che cos'è, da dove nasce, come si alimenta e quali sono delle vie di uscite concrete, semplici, che se applicate possono davvero portarti a uscire da una sofferenza inutile. Io sono Antonio Guaglietta, sono uno psicologo e sono l'ideatore del metodo La Meccanica delle Relazioni, un metodo semplice, concreto, che ci fa vedere quali sono gli elementi propri a tutte le relazioni per poterli modificare ed avere relazioni più sane, più nutrienti, e più felici con noi stessi, con gli altri e con il mondo. Allora, veniamo alla gelosia. Che cos'è la gelosia? La gelosia nasce da un pensiero che è alimentato dalla paura e si poggia e viene ulteriormente alimentato da un giudizio su noi stessi. Erroneamente noi pensiamo che la gelosia sia alimentata dal comportamento dell'altra persona, ma questo non è vero e a volte è vero solo in parte. Vediamolo insieme, cerchiamo di vedere gli elementi propri della gelosia nel dettaglio. Il primo elemento è proprio il giudizio su noi stessi. Perché è il giudizio il primo elemento? Perché per essere gelosi noi dobbiamo avere una scarsa fiducia in noi stessi. Dobbiamo avere dei giudizi spesso molto pesanti su noi stessi. Se per esempio riteniamo di non essere degni di amore, di non saper stare in coppia, di non saper dare al partner quello che serve, di essere inferiori a qualcun altro. Questo alimenta in modo molto forte la gelosia perché pensiamo lui, lei troverà qualcuno migliore di me. Quindi cerchiamo di evitare questa evenienza. Però come vedi il punto di partenza è il giudizio che hai su te stesso. Se hai un buon giudizio di te, se hai una buona autostima, non è che sei certo che l'altro non potrà tradirti sia in coppia, sia in amicizia, sia gelosi in tutte le relazioni. Ma non penserai continuamente a questa possibilità. Perché sai che gli altri sono sempre liberi di fare quello che vogliono, ma tu ti vuoi bene, quindi non ti fissi su questa possibilità. Il secondo elemento è il riferimento al passato. Molte, moltissime persone gelose dicono che sono gelose perché sono state tradite, sono state abbandonate. E questa esperienza passata viene assolutizzata e diventa lo specchio di tutte le esperienze successive. E qui avviene una cosa strana, soprattutto in amore, che l'innocente che viene dopo paga le colpe del carnefice che c'era prima. Cioè se qualcuno ti ha tradito, se hai avuto questa esperienza, la fai pagare alla persona con cui adesso hai una relazione. Questa è una profonda ingiustizia. Vediamo il terzo elemento. Terzo elemento sono proprio questi pensieri alimentati dalla paura. Che cosa vuol dire pensieri alimentati dalla paura? Attenzione, pensieri che possono renderci gelosi attraversano la mente di tutti gli esseri umani. Io in questo momento, mentre sto girando questo video, posso avere un pensiero che attraversa la mia mente che dice, e se tua moglie sta chattando, sta flertando con un'altra persona? Qual è la differenza? Che se non leggo a questo pensiero la paura, se non vado in ansia per questo pensiero, se sorrido e dico, è ok, se lo sta facendo. Oppure, ma dai, che sto pensando? È un pensiero. Se invece mi aggancio a questo pensiero, quasi come fosse la realtà, e dico, oddio, è vero, se lo sta facendo, allora devo scoprire, devo capire, devo vedere. Ecco, la paura alimenta il pensiero e mi trascina giù, mi tira giù nelle sabbie mobili della gelosia. Ora vorrei vedere con te quelli che sono gli inganni, le soluzioni che cerchiamo di applicare per uscire dalla gelosia, che in realtà però ci mandano sempre più giù, ci mandano sempre di più nel vortice della gelosia. Allora, i tre inganni. Il primo è il controllo. Una persona gelosa cerca di controllare tutto, di controllare l'altro, a volte di controllare anche la propria gelosia, ma più cerco di controllare, più mi scontrerò con la realtà immutabile, assolutamente vera, che nella vita non posso controllare tutto. Quindi più cercherò di controllare, più mi accorgerò che non posso controllare. Attiverò il controllo che mi manda fuori controllo, che mi fa perdere il controllo. E il tentativo di controllare produrrà solo ansia, ulteriore paura e alimenterà i pensieri. Quindi attenzione perché molti dicono, no no, ma più se controllo tutto poi riesco a calmarmi. No, perderai quella calma due secondi dopo, perché ci sarà qualcosa che sfugge al tuo controllo. Il secondo elemento sono le rassicurazioni, che sono simili al controllo, producono lo stesso effetto. Se sono geloso chiederò a al mio partner di rassicurarmi costantemente. Però questo è un boomerang che ci torna dritto in faccia. Perché ogni volta che chiedo rassicurazioni mi accorgerò che quelle rassicurazioni non bastano mai. Più la persona mi dirà, ma vedi che non c'è niente di cui preoccuparti, ma vedi guarda il telefono, non c'è niente che non va. E più si affacceranno nella mia mente pensieri come, ma se fosse vero non lo direbbe lo stesso. Oppure, ah è chiaro che mi fa vedere il telefono, ha cancellato i messaggi. Quindi l'altro non ci può rassicurare. Su questo dobbiamo capire che la gelosia è una difficoltà nostra, è una difficoltà di chi la prova. Non posso chiedere all'altro di eliminare la mia gelosia. Perché per quanto possa fare, per quanto possa rassicurarmi, lui non ha il potere di agire sulla mia gelosia. Potrà, ecco, darmi un calmante che dura qualche minuto a volte. Perché dico, vabbè, se me l'ha detto. Però subito dopo si riaffaccerà il mostro che vuole costante controllo e costanti rassicurazioni. Vediamo il terzo elemento, la manipolazione. Questo è un elemento molto importante perché proprio non assumendoci la responsabilità della gelosia come una nostra difficoltà, noi cerchiamo di manipolare l'altro in modo sottile, a volte anche meno sottile. E diciamo, ma se sai che sono geloso, gelosa, non andare a prendere il caffè con il collega o con la collega. Dai, se sai che sono geloso, gelosa, non uscire da solo con gli amici, con le amiche. Se sai che sono geloso, che ti costa non avere più amicizie maschili o femminili? Però questo è manipolare, cioè chiedere quasi da vittime, in un modo che ci fa sembrare deboli e indifesi, qualcosa di molto importante per l'altro. Cioè cambia la tua vita perché dai, se io sono geloso puoi farlo. Attenzione, è un atteggiamento manipolatorio. Io infatti quando lavoro con partner di persone gelose, gli dico sempre di non dare rassicurazioni, non cercare di rassicurare e di non cedere a richieste che a volte sono francamente assurde. Perché non poter prendere il caffè con una collega o con un collega liberamente, tranquillamente nel luogo di lavoro è una richiesta davvero assurda. E la persona gelosa ha il dovere verso se stesso, non verso l'altro, di vederlo. Cioè deve dire ok, non posso chiedere al mio compagno o alla mia compagna di non avere una vita normale. Altra cosa è non andare con la tua collega da solo in una stanza d'albergo. Questa è una richiesta un po' meno assurda, però fare questa distinzione è fondamentale. Veniamo ora non alle soluzioni, ma alle vie d'uscita. Mi piace l'idea di via d'uscita perché noi siamo intrappolati nella sofferenza della nostra gelosia. Quindi vediamo degli spiragli, vediamo delle porte che se aperte possono portarci fuori dalla gelosia. La prima è il focus su di te. Focus su di te vuol dire chiediti che cos'è che mi rende geloso. E qui scoprirai un'esperienza del passato, allora elabora e tocca solo a te l'esperienza del passato. Che cos'è che mi rende geloso? Vedi i giudizi che hai su di te. Prendi carta e penne e scrivi io in coppia sono e molto spesso vedrai uscire fuori tutti i giudizi negativi o molti giudizi negativi. Sono una persona fragile, sono una persona che non sa dare al mio compagno o alla mia compagna, sono una persona che non si sente degna di amore, sono una persona insicura. E allora lavora su di te. La domanda è che cosa dice di te la gelosia, non che cosa ti dice dell'altro. Perché l'altro può avere tutti i comportamenti del mondo e tu sarai libero di scegliere se stare con una persona che si comporta in quel modo o no. Ma non è sua la responsabilità della tua gelosia e sua la responsabilità eventualmente dei suoi atti, ma non della tua gelosia. Il secondo punto è resta nel presente. Resta nel presente è un tocca sana per tutti gli stati negativi, ma per la gelosia è veramente qualcosa di fondamentale. Resta nel presente vuol dire sia vedi che la tua relazione attuale non è la relazione precedente o le relazioni precedenti in cui sei stata tradita, sei stato tradito. Resta nel presente vuol dire ancorati ai dati di realtà. Che cosa sono i dati di realtà? Sono quei dati incontrovertibili. Faccio un esempio che mi capita spesso nel lavoro con le persone gelose. Oggi con Whatsapp è proprio di moda, è necessario, se voglio essere veramente un geloso professionista, controllare le connessioni incrociate. Cioè vedo se allo stesso orario, di solito lo vedo costantemente, sto continuamente a vedere Whatsapp e vedo se in quell'orario c'è su Whatsapp connesso online il mio compagno, la mia compagna e la segretaria o il collega. Ok? E le persone mi dicono guarda ho fatto dei controlli a mezzanotte tutti e due collegati, alle otto e mezza di mattina tutti e due collegati. Quello non è un dato di realtà. Che siamo collegati non vuol dire che stiamo parlando. Poi la mente crea tutto il collegamento e alimenta la paura. Perché oggi, diciotto ore al giorno, siamo quasi tutti collegati su Whatsapp. Il dato di realtà è se trovo un messaggio. Ti amo quando ci vediamo? E quello, ahimè, è un dato di realtà. Un messaggio ambiguo è un dato di realtà, ma non la connessione. E questo è un esempio per dire non lasciamo che la mente da un piccolo indizio formi una grande certezza con ragionamenti e visioni alimentate dalla paura. Ultimo aspetto è segui i tuoi valori. Quali sono i valori principali di ogni essere umano? E sicuramente anche i tuoi valori. La libertà, la serenità, la vitalità. Quanta libertà la gelosia sta togliendo per primo a te e poi anche all'altra persona? Quanta serenità toglie a un rapporto la gelosia? Quanta energia e vitalità fa sprecare in liti, in momenti di tristezza, di paura, di angoscia, in conflitti costanti? Ecco, allora prova a ricentrarti sui tuoi valori. Io ho diritto a essere libero, libera. L'altro ha diritto a essere libero, libera. Se sceglierà di tradirmi io mi comporterò di conseguenza. Ma non è con la gelosia che risolvo. E chiudo con un'ultima cosa. Pensa che solitamente quando si ha un partner geloso dopo un po' si tende a realizzare quello che il partner ti fa già pagare. Cioè come dire, una persona che paga costantemente la sua pena di essere sempre accusato, sempre in conflitto, sempre controllato, prima o poi dirà se devo pagare la pena almeno voglio compiere il delitto. Quindi attenzione che la gelosia può alimentare e addirittura creare le condizioni per un tradimento che altrimenti non avverrebbe. Allora, spero che questo video possa esserti utile, che ti offra degli spunti e ti offra delle pratiche concrete. Perché se ti prendi la responsabilità della tua gelosia e inizi ad applicare le tre vie d'uscita che abbiamo visto, applicandole, piano piano migliorerai. La gelosia non è uno stato on-off. Non posso chiedermi come faccio a non essere più geloso. Non c'è la pillola per la gelosia e non c'è la soluzione magica. C'è da applicare una serie di vie d'uscita per lasciare che questo stato d'animo piano piano smetta di perseguitarci. Se sei interessato a questi argomenti, iscriviti al canale YouTube o alla pagina Facebook Antonio Guaglietta. Spero che questo video ti sia utile e se è così condividilo con persone gelose, sperando che sia utile anche a loro. E noi ci vediamo la prossima volta.